Oh Marco, la comunicazione non serve a niente, se le piaci davvero le puoi scrivere anche quattro cagate che torna sui suoi passi, o ti ama lo stesso. Ma siamo davvero sicuri che questa affermazione valga per tutti? No, perché sembra, ah, se le piaci non ha senso costruire bei dialoghi. Vediamo meglio, ok? Voglio fare chiarezza su questo punto facendo un distinguo tra uomini e donne, perché qua c'è una differenza abbastanza sostanziale nei due tipi di riconquiste. Quindi questo video vale per tutti, non puoi mancarlo, arriva fino in fondo perché ti darò dei consigli ovviamente per migliorare la tua comunicazione e magari capirai anche dove hai barra stai sbagliando. Va bene? Siamo pronti a partire? Ok, allora non prima però di averti ricordato chi sono, perché io sono Marco e sono un consulente relazionale laureato in psicologia che si occupa già da diversi anni di aiutare persone motivate di successo che però stanno vivendo qualche intoppo nella vita sentimentale. Vorrebbero una mano a riprendere in mano il proprio benessere a seguito del lutto da separazione e ad aumentare al massimo la probabilità di ritornare con la persona che ancora desiderano. Quindi se ti rivedi diciamo in questo identikit, beh, sappi che in descrizione a questo video, come a tutti i miei video, trovi pane per i tuoi denti. Basta che clicchi sui link qui sotto appunto. Allora, voglio subito fare un disclaimer importantissimo. Se a una ragazza proprio piace zero, la comunicazione sarà irrilevante. Irrilevante ragazzi! È inutile che ci prendiamo in giro, come qualcuno là fuori potrebbe fare. Uh, fai il percorso con me! Anche se è totalmente indifferente, la magia dei nostri messaggi la riporterà sul pezzo. Ma dove? Ma smettetela di farvi infinocchiare, ok? Se lei è a zero, ti ha bloccato dappertutto e non vuole saperne assolutamente di te, lei infastidisce solo il tuo pensiero o identifica con te un carnefice, quindi lui mi ha fatto soffrire, quindi che si fotta, ciao, basta, è finita per sempre. Non si può fare nulla. Non saranno i tuoi messaggi, la bontà degli stessi a determinare un suo ritorno, ok? Ma la cosa che molti non sembrano capire è che molto, molto spesso noi ci troviamo a che fare con situazioni che stanno nella via di mezzo, sono delle sfumature di grigio. Cosa ti sto dicendo? Beh, ti sto dicendo naturalmente che la ex magari è più sul no che sul sì, è più sul sì che sul no, è più arrabbiata, è più fredda, ha tante emozioni che ho passato un po' al setaccio sul canale, che ovviamente sono meglio riprese nel videocorso. E comunque sì, siamo sempre lì. E allora in quelle circostanze che sono veramente la stragrande maggioranza, il modo in cui tu comunichi fa la differenza. Perché? Perché mediante la comunicazione, soprattutto non verbale ma anche verbale, quindi effettivamente che cosa scrivi nei messaggi, che cosa le dici quando siete assieme, ha un impatto enorme sulla sua emotività, sui suoi sentimenti. Perché mediante il dialogo noi esprimiamo caratteristiche di personalità, che a loro volta segnalano indicatori del fatto che noi possiamo essere o meno dei buoni partner. Ed è esattamente qui che l'evoluzione ci porta. Ci ha sempre portati e sempre ci porterà. Noi ricerchiamo nei modi dell'altra persona indicatori che lasciano presagire che l'altro sia una persona con cui poter costruire un futuro. Se in quel momento la nostra strategia di mating, quindi di selezione del partner, è orientata a lungo termine. Se chiaramente, se siamo orientati a breve termine, trascureremo, metteremo magari in secondo piano, qua parlo più degli uomini, tutte le caratteristiche che riguardano l'affidabilità. Perché in fin dei conti, se si tratta di trascorrere una o due notti assieme, non è un grosso problema quello. Pertanto comunicando, dialogando in maniera efficace, in maniera coinvolgente, brillante, perché poi sapendo ascoltare, sapendo veramente essere un supporto, un valore aggiunto, è lì che noi andiamo a fare breccia. È lì che noi ci differenziamo rispetto a tutti i potenziali pretendenti che l'altra persona ha intorno. Tu mi dirai, ah ma se anche gli altri sanno comunicare, allora... Beh, mettiamola in questi termini. Innanzitutto, oggigiorno non è che tutti siano dei fenomenali oratori, e non è neanche richiesto a te. È richiesto che rispetto alla comunicazione che tu hai adesso, e ti invito, attenzione, qua apro la macro parentesi, ti invito ad andarti a rivedere le chat con la tua ex, ti invito adesso a pensare a com'era la vostra comunicazione quando eravate assieme. Era spenta? Era sempre molto rutinaria della serie? Come è andata la giornata? Bene, grazie. Tu come stai? Che fai domani? Ok? Perché questo è quello che molto spesso capita nelle situazioni, nelle storie lunghe. Situazioni nelle quali ormai si è appeso il cappello al chiodo, e diciamo si va in modalità default, in quella comunicazione fluff, fluff intendendo la comunicazione più base, più superficiale, quella che però non porta con sé grandi emozioni, dà stabilità ma dà poco altro. Tu lo sai che per me comunicare significa avere una vena ironica, una vena sarcastica, anche autoironica per far vedere che non ti prendi troppo sul serio, una capacità di sessualizzare, quindi di rendere piccante la circostanza, e creare fantasie nell'altra persona. comunicazione acida in modo tale da sapere anche prendere in giro l'altro, ma con sagacia, in modo da non metterlo mai troppo sul piedistallo, e la comunicazione profonda per trattare argomenti veramente seri, gli argomenti che riguardano i valori della nostra vita, le nostre credenze, i nostri progetti futuri, e quindi saperci connettere appunto a un livello molto molto profondo. E anche questo è il motivo per cui di solito si mettono al bando messaggi estremamente banali nella fase di riavvicinamento, nella prima fase, perché messaggi banali come Ehi, ciao, come stai, che fai di bello? Sono messaggi che chiunque le potrebbe mandare. E anche qua sto parlando dal point of view di un uomo, perché se noi la vediamo invece dal punto di vista femminile, il discorso cambia un po'. Una donna è più sensibile, diciamo, alla comunicazione, perché, come ho detto, rivede in essa delle caratteristiche di personalità funzionali al vederti come un buon padre e un buon marito, ok? Fatta molto semplice, poi ci sono tutte le varianti del caso. Invece, per quanto riguarda un uomo, vedere sta cosa è importante ma fino a un certo punto. Infatti anche nel videocorso premium dedicato alle donne, che è un videocorso diverso ovviamente da quello fatto per gli uomini, lo dico chiaramente, sì, è giusto creare dei messaggi simpatici, magari creativi, però senza spaccarsi la testa in quattro, perché anche messaggi più normali possono andare più che bene, anche perché un uomo avrà molto più la tendenza a dire ha creato un messaggio molto particolare, molto arzigogolato, si vede che sta investendo molto, si vede che è ancora molto coinvolta da me. E questa è una cosa che noi, in molte situazioni, non vogliamo lasciar trasudare, pertanto non è necessario. Quindi questo video è importante per le donne, sì, certo, perché bisogna comunque avere uno stile comunicativo più completo, migliorarsi, d'altro canto, se non ci miglioriamo in questa vita, in quale vorresti migliorarti? Non vuoi essere curioso, esprimere al meglio il tuo potenziale? Eh, dai, su! Però, insomma, non è la cosa più rilevante o clamorosa per la buona riuscita della riconquista. Chiusa la parentesi. Ora, torniamo un attimino alle parti del discorso, ok? Usualmente io ti direi di mettere al bando messaggi estremamente semplicistici e messaggi anche troppo lunghi per la ragione che ti ho detto poco fa. Quindi se tu crei un messaggio troppo complesso, crei subito pesantezza, dai l'immagine di poca naturalezza, come se te lo fossi scritto prima sulle note del telefono. Invece tutto deve sembrare molto, molto naturale. Un altro consiglio che mi sento di darti è quando avvii una chat con la tua ex, che sia la prima, la seconda o la terza, segnati sempre due argomenti da trattare. Uno che possa riguardare il rompighiaccio, quindi effettivamente la prima cosa che dici, e poi anche una transizione, ossia l'argomento più personale che andrei a sviluppare. Per esempio, lo rompighiaccio è una battuta su un amico che è in comune che avete, che è incontrato, e insomma, non potevi non farle notare la cosa. Dopo un paio di scambi, invece, la transizione potrebbe essere parlare di un hobby che ha la ex, parlare di come stia procedendo il lavoro, inserendoci anche tu magari un aneddoto simpatico su qualcosa che è successo a te. Ovviamente non tutto nello stesso messaggio. Parare a comunicare significa anche variare un po' lo stile dei messaggi, vale a dire non mandare magari solo freddi messaggi di testo, ma ogni tanto azzardare qualche audio. Se tu mi dici, Marco, non era la mia modalità comunicativa principale, ti dico, vabbè, introduciamola. A un punto della vita tutti noi abbiamo iniziato a fare delle cose che prima non facevamo. Ok, questa è un'obiezione che ricevo spesso, anche rispetto ai social. Io non ho mai pubblicato, va bene, tutti noi siamo passati ad essere non pubblicatori a pubblicatori in un certo momento della vita, quindi non trovare scuse per non fare le cose. Poi se tu mi dici che una modalità comunicativa prevalente che avevi con lei era la chiamata, allora sì, potremmo anche decidere di optare per questo metodo, per il ricontatto o comunque per la conversazione avviata. Anche lì ricordiamoci sempre che è l'altra persona il focus del discorso, quindi non mettere troppo in mostra a te stesso. Questo è un errore che voi fate in tanti, cioè arrivate in un punto della relazione dove il vostro ego prende il sopravvento. E più che l'altra persona esistete voi e i vostri bisogni. Quelli dell'altra persona vengono dati per scontati, magari perché l'altra persona è troppo buona, non si impone, non ti fa notare che sta subendo una privazione. È un'ottima occasione questa qua per mostrare, diciamo, un atteggiamento diverso. Poi ti ripeto, non si tratta fondamentalmente di cambiare in toto il tuo modo di essere, ma di levigare degli spigoli. Ad esempio, sei uno che durante la conversazione tende a fare molte domande, risultando così però ansioso e un po' troppo terzo grado. Allora cerca di modellare le domande rendendole delle domande indirette. Tipo, invece di chiedere, il lavoro è andato bene? Che è anche un po' banale. Potresti dire, ho visto che hai fatto le unghie nuove, spero che non te le abbiano fatte utilizzare. O rispetto a un particolare hobby, presumo che col paddle tu sia diventata ancora più brava. E non mi deludere dicendo che hai già appeso la racchetta al chiodo. È una variazione che, tra l'altro, rende più propensa l'altra persona a rispondere. Una domanda diretta di solito crea una risposta più corta. Lasciare la domanda più aperta, invece, dà più spazio e respiro all'altra persona per poter esprimere se stessa. Ci sarebbero molte altre cose da dire rispetto a questo tema, ma per oggi ci fermiamo qua. Se vuoi veramente imparare queste cose al meglio, ricordati che hai l'opzione di parlare con un mio coach esperto grazie alla consulenza personalizzata o parlare con me e accedere a tutto il materiale nel caso in cui accedessi al videocorso pro. Naturalmente per il momento, perché se arriverà una massa eccessiva, questa opportunità ovviamente cambierà. Mi raccomando, dialoga. Quello della parola è un dono e bisogna farne davvero buon uso perché non è solo nella relazione che ti servirà. Quindi nel tuo percorso di automiglioramento vogliamo includere anche questa skill finalmente? E dai!